In un altro mondo avrai accesso all'esclusiva Slam University. Prende il via la seconda edizione di In un altro mondo, organizzato dalla CEI, un'originale iniziativa con la quale i candidati vinceranno in preme un mese di volontariato. Il concorso è dedicato ai giovani tra i 20 e i 30 anni che vogliono fare questo tipo di esperienza per raccontarla. Ai vincitori infatti viene chiesto di tenere un diario di reportage che verrà pubblicato sul sito web del progetto. Una prima selezione prevede la scelta di 20 profili inviati entro il 17 maggio. Poi la commissione sceglierà quattro vincitori che tra fine luglio e primi settembre partiranno in quattro differenti luoghi. Nella Casa della Providenza a Calcutta in India, nel centro Kibulia Nairobi in Kenya, nella Comunità Volontari per il Mondo nella diocesi di Bairdar in Etiopia e nella Little Nazareth Home per bambine a Manila nelle Filippine. Grazie a tutti.